va bene non solo vaccini ma stamattina faremo un vr cercando di far volare un drone in guerra vediamo un poco se ci sono un attimo ok ok questa è una maschera vr se riusciremo nostri riusciranno i nostri eroi a un poco trovo gli occhiali perché altrimenti non riesco a indossiamo la nostra bella mascherona vr e cercheremo di far volare questo drone mi raccomando mi raccomando cercando di fare questa operation diciamo adesso ve lo faccio vedere cosa stiamo parlando eccolo eccolo lì mi raccomando fate i bravi ok va bene adesso provvediamo a fare un vr ovvero virtual reality metteremo il tasto e provvediamo a volare in tutto diciamo modo va bene ok va bene adesso lo portiamo su ok è una cosa fantastica è ecco tra le altre cose attraverso il bluetooth con l'auricolare è collegato anche come dire riesco anche a vediamo un attimo abbiamo acceso la batteria qua sotto sì ok 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 è che caldo perché è bello perché praticamente noi non è solo l'auricolare così anche l'auricolare quindi questo è il suo quindi siamo oltre presto quello che è stato fatto anche sapere il suo quello che è stato fatto quindi non è stato fatto perché non è stato fatto quindi non è stato fatto latsola per fare un'articola che è stato fatto e che non è stato fatto c'è il suo ok non riesco a vedere l'unica cosa che il segnale non è proprio stabilissimo purtroppo non è proprio stabile davanti a me adesso in questo momento purtroppo questo programma in vr non trasmette direttamente su facebook qui in faccia solo l'unica e voi Sì, sì. 24 m all'ora percentuale batteria 79 distanza l'altezza che vi devo dire un'esperienza fantastica questa non è la prima volta che la provo mi spiace solo un farmi poter farvela vedere ecco 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 36 chilometri all'ora cari ragazzi 84 batteria ne abbiamo fino al 30 non so mia figlia che abbia che fine abbia fatto ne ho porto sempre con me però questo programma ecco 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 ok è il mio figlio? è il mio figlio è il mio figlio il mio figlio ok va bene questo il mio figlio è il mio figlio è ero è il mio figlio che sono 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 Oh! Grazie a tutti. 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 Vediamo se vi faccio vedere. Eccolo. 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 Eccolo.